Il nostro ballo principale della nostra nazione, del Cile, che è la famosa cueca, quindi ogni volta che potevo riuscivo a ballare la mia danza. If David Pizarro wanted to dance, no-one was going to stop him, the playmaker was revered for his style and ability. Big on talent, short of stature, Pec, a diminutive of Pequeño, which means small in Spanish, came to Italy in 1999. After six years in Udine and a trophy-laden campaign at Inter, where he won the Scudetto and the Supercoppa, the Chilean moved to Roma in the summer of 2006. In the Italian capital, under coach Luciano Spalletti, the little playmaker became a great state of Italian football. Beh, chiamato legge, credo che è un complimento enorme, perché comunque io sono arrivato a 18 anni e mi sono tornato in patria a 35. Anche se le mie soddisfazioni me le sono fatte godute fino a tantissimo tempo, quindi fa piacere, fa piacere. in Italia. Io ero convinto che dovevo andare a giocare alla Roma, anche perché già giocando nell'Udinese siamo stati parecchie volte a Roma a giocare le partite da lì e il mio obiettivo era quello. Per me tutti è quello che è il compagno più forte con chi ho giocato. Beh, con Daniele credo che abbiamo costruito per parecchi anni un centrocampo importante a livello anche europeo. Ci siamo levati delle grandissime soddisfazioni con una rossa strettissima e abbiamo combattuto con i nostri mezzi l'Inter di Mourinho, quindi credo che noi meritavamo per tutte le difficoltà, perché era una rossa stretta e non eravamo la rossa dell'Inter. Cassano down the line, backpost, Pazzini! Sampdoria destroying Roma's Scudetto dreams! 2010 credo che siamo stati molto molto vicino allo Scudetto, purtroppo se ne andò via e che sicuramente la gente di Roma ci ricorda quel gruppo anche per quello, perché se la siamo lottati fino alla fine. Prima di morire vorrei vedere alzare quello scudo che a me è mancato e che sono stato vicinissimo. Roma won't make Pizarro's dreams come true this season, as they currently sit ninth, and the defeat to Milan led to Jose Mourinho's dismissal. Former Giallorossi captain Daniele De Rossi has been named as his replacement. The Capital Club will seek only their second win in seven Serie A matches, when they take on a Verona side, boosted by last week's crucial victory over fellow strugglers Empoli. Roma-Verona sicuramente una partita nella quale la Roma non può perdere punti. Deve stare attento a quello, a non sottovalutare il Verona, soprattutto perché mi sembra una squadra in saluto. inizia il campionato di ritorno che si fa molto molto dura fare i punti, soprattutto con le squadre che stanno lottando per non retrocedere. Capo